Caro Governatore, le scrivo per annunciarle che attendiamo almeno noi di Superjay le sue scuse per averci negato una ripresa integrale di una riunione che doveva essere aperta alla stampa nel segno della trasparenza più assoluta, ancor di più dinanzi alla produzione di una ripresa integrale che non sarebbe stata oggetto di interpretazione. Per averci ricordato che non eravamo alla presentazione dei giochi del Mediterraneo offendendo le nostre professionalità per non aver usato lo stesso trattamento nei riguardi di chi al contrario ha filmato l'incontro rendendolo pubblico in rete, non da giornalisti peraltro. Non stiamo parlando dei giochi del Mediterraneo o dei finanziamenti riguardanti la tale villa della città dell'Aquila o di Teramo. Mi aiuto con il patrimonio linguistico che io ho. Stavo parlando con il Prefetto, con il Viceprefetto. Speriamo diventi Prefetto. E poi, scuse a parte, ci consenta un paio di riflessioni. Bello non è stato aver auspicato la promozione a Prefetto dell'attuale Viceprefetto di Teramo dinanzi al Prefetto in carica. Forse avrebbe fatto meglio a fare delle specifiche. E' bello, non è stato, aver posto alla ribalta la sua nota capacità linguistica e dialettica che le viene riconosciuta universalmente più o meno da tutti. Sa perché è bello non è stato? Perché si potrebbe pensare di essere dinanzi ad un soggetto che starebbe esasperando i limiti della propria loquacità. Conta, certo, ma contano molto di più i fatti e ancora di più il rispetto del lavoro altrui. Grazie, Presidente D'Alfonso. Qualcuno le racconterà della mia lettera aperta.